Eccoci qua, con Bat Use, che in italiano sarebbe poi la casa di merda, o quel cesso di casa. Era una casa molto carina, col bagno, ma senza cucina. Nuova partita. Ma sto frustrando l'albero, il palo, cos'è? O qualcuno? Sono stanca di lavorare per l'azienda. Generico. La Fabriano. Devo lasciare questo lavoro, non è salutare. Dovrei dimettermi e andare in campagna. Ma non ho tutti quei soldi. Pensiamola un po' più in piccolo. Cos'è questo? Un volantino, attenzione. L'affitto è gratis se lavori ai nostri bagni pubblici. C'è sicuro un'inculata da qualche parte. Li chiamo. A Kimura Maina. Ma è il posto? Siamo noi. Stanza 203. Meglio portare subito le mie cose. Prendo la scatta. Ok? Posso prendere più di una? Ha droppato le altre? No. Perfetto. Goti. Ah. Non gira proprio smooth. Filtro VHS si può togliere? Ragazzi. Aia. Scatta ancora, eh. Però... Però già... Già è Goti per me. Devo portare in camera le mie cose. Sì. E dov'è? Di qui. Sarà su. 203 era. Che è? È arrivato tutto... Con questo viso torvo. Proprietario Puzzi. Non ho capito. Il proprietario mi dice che è Puzzo? O il proprietario... Il cognome Puzzi? Ah no. Proprio il proprietario mi ha detto che è Puzzo e dovrei fare un bagno. Vabbè. Ho preso la pioggia oggi. Mi spiace. Quando hai finito di sistemare le tue cose, raggiungimi i bagni pubblici. Ho una cosa da dirti. Questa è la chiave di appartamento. Benvenuti al villaggio. E lui nel frattempo si sta compenetrando tutta la milza. Vabbè. Ben gentile. È salve. È buon rendere. Entri in appartamento? Sì. Scelte multiple. Qua... Già... Si arriva a dei livelli artistici. Bello. L'audio se ne va. Un glory hall. Tira lì fuori. Che cosa ho tirato fuori? Ah, il pacco forse. Aspetta. Ecco. Eh, ma non ho il bagno in casa. Devo andare al bagno pubblico per forza. C'è l'ombrello. Miche, ma se mi scappa il cagone, cosa faccio? Non diciamo nulla del glory hall? Vabbè. Vado. Esco. Esco. A casa è proprio un cesso. No, no. Confermo. Vado. Non so dove, ma vado. Ok. Io sono rosso perché sono femmina. Salve. Cazzo, lui però è di là. Ah, aspetta. Eccolo qui. Che faccia brutta. Benvenuta, benvenuta. Grazie. Hai visto il volantino? Come il volantino? No, sono gente. Sì, però me già assunti. Ci conosciamo, voglio dire. L'audio? Non devi pagare l'affitto. E qui, lo abbiamo capito. Se lavori nei bagni, nel tuo figlio. Sì, certo. Però quanto devo lavorare? Oh, è? Non c'è la doccia nella tua stanza. Ho visto, non c'è niente nella mia stanza, in realtà. Quindi non hai alternative. Meno. Meno. Se lavori qui, mi lavo gratis, immagino. Puoi usare i bagni dopo il tuo turno. Ok. È un affare, no? Beh, lo vediamo. Ho delle alternative? Sì. Non venire a vivere qui, immagino, sia l'alternativa. No. Lui comanda... Comanda... Iniziamo. Segui le indicazioni sulla lavagnetta. Io vedo il nulla cosmico, ma mi fido. Se hai delle domande, tienitele. Beh. Non male, insomma, come... Non i regolamenti... Briefing. Ottimo briefing. Anche training, va bene. Anche orientamento. Bravi. Bravissimi. Ma siete dei siedonimi e contrari micidiali. Vabbè. Non è difficile gestire un bagno pubblico. Beh, lo direi sì. Domanda X. Arriva uno e mi piscia sul bancone. Che faccio? Arriva una e caga dentro una delle pozze dove la gente si fa il bagno. Che faccio? Arriva un bambino e dice forza Juve. Che faccio? Ma vabbè. Buona fortuna, grazie. Sta arrivando un cliente. C'è il jukebox. Sì, vai. Cambibrano, vai. Rasoio, un asciugamano e del pagame... Come? Allora, pagamento. Un soldino. Dove lo metto? Lo metto qui. Ok, lui vuole un rasoio e un asciugamano. Dove? Eccolo qua. Buona giornata. Vado. Sì. Una donna di 29 anni è sparita dal vlaggio. Sì, salve signor... È una bambina. Asciugamano vuole. La persona è scomparsa è una 29enne, residente a... Secondo la polizia... Parli, non stai arrivando ad altri clienti. Prendi spazio per riposare. Come? Faccio una dormita? Chi è stato? Chi sta? Chi è? Chi è? Chi è? C'è uno col parapappolo di fuori. Che fa? Non si vergogna... Beh, c'è l'asciugamano. Franco! Cos'è stato? Ho visto qualcosa nella sauna. Controllo. Andiamo assieme? Mi tiene la manina? No. Vabbè. E questa è la sauna. Salve. E guarda, non c'è un cazzo. Fa caldo. Una sauna normalissima. Perfetto. Non c'è niente. C'è qualcosa? No. Giurfo di averlo visto. È giurfa quanto vuoi. Non c'era niente. Questo posto mi angoscia. Un po' anche a me. Ci si vede. Ciao. Vabbè. Come faccio a tornare al lavoro? Che paliura! Pulisci il locale. Cosa devo fare io? Salve. Una come te. È perfetta per il sacrificio. Nel senso che devo lavorare tanto? Eh vabbè. Dai. Pulisci il locale, mi ha detto. Ma dai. Ma sei cagata addosso? Per forza è il sacrificio. Mi serve una scopa. Eh! Ma quanta merda ha fatto? Dai! Mi serve una scopa. Non so proprio che la gente cagava. Un moccio. Uno straccio vileda qualcosa. Che canzone. Ah, cosa c'è qua? Ah, ecco qua. Scopa. Perfetto. Trovata. Di qui è tutto... Ah, anche di qua caga. L'ho cagato dappertutto però, eh? Sono bravissimo a fare questo. Poi non ho capito perché i cattivi di Kingdom Hearts siano esplosi proprio qui. Però... Hai finito il turno. Fai un bagno. Volentieri. Come si fa? Fai la doccia? Sì. Ah, ok. Che lo fa? C'è della musica lì. Temo di non aver compreso che cazzo devo fare. Ecco che aveva sporcato in giro. Sono svenuta? Sono allergica alle scimmie forse. Che succede? Qui la scimmie è scappata con... Secondo giorno. Ah, i pacchi sono spariti. Il Glory Hall qui è rimasto. Tira lì fuori. Ma erano capelli. Oppure peli pubici. Perfetto. Arrivederci, eh. Di qua? Ma è esplorabile? Minchia, ma che bello. Oh, salve. Adesso si incazza perché devo andare alla... Che è? Monaco. Ma guarda chi c'è. Sei la nuova, presumo. Ti accoglierò a braccia aperte. Però non tanto. Così. Questo è il suo massimo. Stai lavorando duramente ai bagni pubblici. Beh, in realtà è il primo giorno, quindi no. Non lo farei fossi in te. Perché? E poi senti una presenza che ti segue. È la scimmia. Io fortemente, fortemente, ti consiglio di farti benedire qui nel mio tempio. Questo me lo vuole mettere nel culo. E non metaforicamente parlando. Vai. Sei una ragazza obbediente. Cento, cento, qua c'è del sesso anale. Gli dei sono felici della tua scelta. Eh. Cosa ti ha dato fuori? Prenditi lo spiro del chill takes. Ora sei protetta. Per ora. Torna quando vuoi. Ogni volta che ti sentirai. Una di... Strada. Quando torni però, devi portare un'offerta. Un'offerta monetaria. Ah, il primo giro è gratis, però dopo. Ok. O gli detti abbandoneranno. Ok. Sì, però scusa un attimo. Non ce l'ho io quell'oggetto lì. Me l'ha dato in testa proprio così. Come sta arrivando un cliente? Sì. Posso... Sì. Pagato. Pagato. Uscita. Ah no, ecco qua. Salve. Entri, entri. La ragazza misteriosa non dice niente. Oh. Ho dentro fuori che fa corrente. Cambi brano? Sì. È notta via. Che succede? Sono passati i 15 minuti e io andrei a portargli la bibita a fa da solo dopo un po'. Cosa voleva lui? Ma sì, portiamo una bread, non sembra. Ecco lei, carissimo. Brava ragazza. Ascolta. Perché lavori qui? Ma intanto un po' di cazzi tuoi, non speri... Insomma, eh? Sì. C'è sempre una scelta. Vuoi lavorare per me? Che tipo di mestiere è? Una ragazza come te potrebbe guadagnare facilmente 10 volte di più. Parliamo del facilmente. Che ne dici? Non spendere la tua preziosa vita in questo posto. Non sono interessata. Ah, l'hanno usata lei. C'ha il naso lungo. Patetica, dice. Pensi di valere così tanto? O così poco? Cioè, magari è modesta, eh? Stai attento a te. Mazza. Sto facendo il gentile. Non fosse per me... Non avresti nessuna scelta. Ma ti ho già detto che non ho nessuna scelta. E si alza lui con la sua mutanda bagnata e se ne va. Questa si può... Ah, posso andare nel locale Caldaie? Tanto non c'erano clienti, quindi. Ma qui ci hanno messo della gente morta? Santo cielo. Il coperchio è bloccato. Si apreva solo quando l'acqua era drenata. Ma è Resident Evil. Bellissimo. Ma anche il tubo di scarico. Ma è veramente Resident Evil. Ma che bello. Quindi mi serve un tubo di scarico. Però non ci sono tubi qui in giro. A parte quello dove sono seduto sopra io. È davvero? Vabbè, succede. Oh no! Le luci si sono... Quante volte lo dice? Devo capire come farle ripartire. Ah, locale Caldaie? Vorremmo che non ci fosse un cazzo. Quindi magari nella parte femminile c'era... Oppure c'è un contatore qua fuori. Che poi è salto... Cosa sono questi tubi? Ma siamo chiaramente allacciati abusivamente qui. È chiuso. Negozio di elettrodomestici. Qui c'è negozio di elettrodomestici. Però se non posso comunque entrarci... Ah, vacca puttana, potevo! Ok. Boom. E anche qui c'hanno questi ventilatori. Però funziona tutto. Oh no, loro si sono allacciati a noi abusivamente. Infami. Scusa, oh. Eh? Non sembra che tu possa permetterti queste cose. I suoi elettrodomestici sono i suoi bimbi. Quindi vende anche il bimbi, vende. Ho capito. Non si contratta. Capito? Ho capito. Chiave del pannello. Non so se da troppa elettricità ha fatto saltare lei. Ha fatto saltare. È perché gli elettrodomestici sono i suoi bambini. Lo troppo uccideremo e lo sapevo che se la prendeva. Va bene. Ok, la devo distrarre in un qualche modo. Premo l'anarmi antincendio. Come arriva? Che fa? Come mi si è insinuata la signora? Arrivederci. E questa cosa l'abbiamo risolta. Adesso lei sicuro ci fa una macumba. Eh, la madonna! Però anche noi siamo allacciati proprio super abusivamente. Quindi non me la prenderei neanche troppo con la povera signora che è andata a mangiare i suoi poveri figli. Allora, pulisci i muri. Vedete i muri cagati? Sì, tantissimi muri cagati. Ecco qua. Professionista. Eh, lo so. Anni di pulizie. Che poi se venite in Giappone con me, eh. Ci andiamo magari anche in uno di questi bagni a pulire. Ma è una signorina questa macchia? L'apparizione tipo Gesù? Hai finito? Tu non fai un bagno? Sì, ma non l'ho mica lavata. Vabbè, sti cazzi. Mica è un problema mio. Fai il bagno? Ah, sarebbe la prima volta. Ieri non l'abbiamo fatto. Ah, c'è anche niente. Siamo chiusi, signora. E sarebbe figo però farsi un bel bagno così. In un posto... E che dopo devi rivestirti e andare a casa? Che? Cos'è? Troppata la doccia? Che è stato? Cos'è stato? C'è qualcuno che si lava di là? Porca vacca. Era la cliente. Che non voleva disturbare. Scusi, guardi che questa è la zona maschio. Ah no, sono proprio partite le tubature qui. Eeeh, dopo chi la paga? Era uno che teneva in mano il cazzo? Ah no, sono i rubinetti. Che paura. Sembravano due mani che... Eh, facciamo un casino. Che dobbiamo fare? Divieto di persona. In che senso? È il prete questo. Adesso stiamo iniziando a guadagnare un po' più di soldi. Quindi possiamo permetterci anche più intimo. Ma il calzino rimane spaiato. Uno rosa e uno viola. E strappo via i capelli del culo del signore. Non ho capito cos'è successo. Cioè, è stato trovato un cadavere. Perché c'è stato quell'urlo lì dalla sala macchine? Posso... Povera scimmia. Morta una scimmia. Ah, vedi. Dovrei riuscire ad aprire questo perché quello sembra il tubo di scarico che mi serve. Stai arrivando un cliente. Chi l'ha pina detto? Chi l'ha pina lei? Bella collana. Ehi tu, sembri triste? Ma... Lavoro. Non mi serve aiuto. Ma è tutto a posto ora? Ma non ti ho chiesto. Chi la texti ama? Mi fa molto piacere. Il fatto che ci siamo trovati nella prova, no. In realtà sei entrato, tra l'altro, con anche un divieto di ingresso. Quindi, sinceramente, io ti prenderei anche un po' come una persona maleducata, se non criminosa. Prendi lo spirito del Killatex. Me lo prendo nel Killatex. Killatex è sempre con noi. Alcuni lo chiamano Dio, ma il suo vero nome è Killatex, immaginato. Ne prendo uno. Mazza, ma è grossissima. Quanto? Non ce li ho. Non ce li ho, non ce li ho, non ce li ho. Killabin, Killatex ti abbandonerà. Eh, ho capito io. Killabin, Killabin. Killaciao. E comunque di lì non si poteva entrare. Ribadisco. 20 minuti dopo. Salve. Una come te è perfetta per il sacrificio. Me l'ha già detto, signor. Me l'ha già detto. Ma lì c'era un Killatex nella libreria. Per oggi è tutto. Vediamo. Sulla lista c'è scritto di prendere il bicarbonato di sodio dal negozio di caramelle. Perché c'è un negozio di caramelle che vende il bicarbonato? Ma soprattutto, dov'è il negozio di caramelle? Ah, c'è un signore qui. Il monaco? Salve. Ciao! Yaakimo! Un piacere, più mio. Una patata dolce? Ma dai, anche sì. La nostra polisi consente nel fare domande sulle patate dolci prima di darne una, va bene? Dove crescono le patate dolci? Nella terra? Sì. Quanto è il tempo del raccolto? Ma io, per me, è autunno. Le patate dolci fioriscono? Mi verrebbe da dire di sì, se sono come le patate classiche. E a cosa somigliano? A sto cazzo, non lo so, che domanda è? Cos'è una gloria mattutina? Quando ho detto sto cazzo, scherzavo. È un fiore della gloria mattutina? Non so cosa sia, ma io dico la gloria mattutina. Non so come è fatta, però il tulipano mi sembrava strano. E denti di leone pure, per la... Sanano un fiorellino delicato. Conosci bene le patate dolci? Eh, modestamente, sono un grande fan della patata dolce. L'ultima domanda. Il modo migliore per mangiare patate dolci? E questa è una scelta tua. Scherzate il microonde e direi di no. E invece mi sa che è la risposta, perché io ho solo il microonde, vero? Però grigliate al punto esclamativo. Al punto esclamativo... Eh, il punto esclamativo mi sta mettendo il dubbio. Dai, proviamo che grigliate su pietra e voglio seguire la... La teoria del punto. Ah, non l'ho visto, convinto. Ah no, è vero, è vero, dai, ok, 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 ok. Me l'ha data, me l'ha data, a posto. Goditela, grazie. Non mangiarla troppo in fretta, assaporla. Grazie. Sì, però io stavo andando al negozio di caramelle che mangiò in sé a questo, sì. Cara ragazza, hai degli occhi molto belli. Posso dare un'occhiata più da vicino? Ma perché dire di no a una signora così gentile? Mi dispiace, non riesco a resistere. Mi sputo in un occhio, attenzione. Era pronta per... La gatta scompa... La gatta scompare... Che, che, chi, di chi? Tama-chan. Se la trovi, ti darò un premio. Ok. Non sapevo niente, ma... Ha del bicarbonato, signora? Bicarbonato di sodio. Si usa per pulire l'insalata, le cose. E anche per pulire, per disinfettare, insomma. Ce l'ha? Questa patata è in mano. Scusi, signora, non è che ce l'ha... Hihihi. Ah, di te che trovare la gatta è il premio? Ma io non ne sapevo un cazzo della gatta. Non mi frega niente. Ah, eccola qua. Che sei il gatto del negozio di caramelle? C'è un signore che piscia lì. Scusi, è visto un gatto. Eccola qua. Era lui. Tanto che se ci dà il bicarbonato in cambio del gatto... Parla il fatto che il gatto non dovrebbe stare qui dentro. E questa è la tua gatta? Bentornata. Grazie. E ora è il premio? No. L'ho fatto a posizione per te. Una bambola? Grazie, signora. Però io volevo il bicarbonato. Chiave della cassa? E bambola giapponese. Ammazza che paura questa signorina. Chiave della cassa? E dentro c'è il bicarbonato. Grazie a vorrei andare, signora. Perché mai? Come funziona? Verso così? Ah, va messo proprio sfregato. La signorina qui non... Ha lasciato la luce accesa nel cesso. Fai una sauna. Ah, vabbè. Facciamoci la sauna. Mettiamo il mestolino. Ci sediamo. Il mestolino serve a far vapore comunque, se no sapete. Prendi e puoi versi l'acqua calda e fa più vapore. Sta arrivando Darth Vader a farsi la sauna con noi. Ma questa qui è una puttana! Che paura! Ma scusami! Ah, vedi i vestiti hanno iniziato a diminuire. Strappo via il tarzanello. Che ormai è diventata tradizione. Un risponso mica da ridere. Ok. Ah, vedi. Ci siamo permessi una tv comunque. Non male. Il ventilatore. Forse non avrei dovuto strapparli i tarzanelli giorno dopo giorno. Primo giorno però la mia difesa non li avevo visti. Vabbè, allora vado. Qui è lagato tutto? Ah no, semplicemente riaperto. Chi è che bussa adesso? Ma dal cesso? Futta. Come? Futta? Finita la carta igienica. Puoi portarmene? Eh, lei è un uomo. Mi sono sbagliato. Ride. Vabbè. Ecco lei. Mi sono dato un pacco da sei di carta igienica. No, guarda. Ha intassato il bancho. Che stronzolone che gli è uscito. Guarda come se ne esce contento. Ma mi è corso in culo. Che fa? Ah, matto. Pulisci il locale. Puliamo il locale. Sparita la signorina. Per forza. Mi ha fatto uno spauracchio. Uscita dal muro e entrata nel mio culo. Mi sussurra. Indago. Che brutta idea. Indago. Ah, beh. Chissà cosa succede mo'. Ah, lo vedo, lo vedo. L'ho visto. Ho visto la faccia così. Eh, l'avevo vista. Non mi ha fatto paura. L'avevo vista. Che succede? Sta male, signorina? Vuole una mano? Porca vacca. Eh, un analgesico qualcosa. Dov'è? Serra? No, mi segue. Vaffanculo, la strozza. No, sono... Incapellato dentro. Mi serve un rasoio. Il capello. Il dribbling. Eh, però che... Che cosa risolgo? Scusami. Mi sa uno! Ah! Ah! E' niente. Non so come reagire. No, mi hai infilato sotto la mappa. Qualcuno chiama un estetista! È game over? No, era game over! Era game over! No, secondo me era scriptato. Però sarebbe un bel modo per farti fare un game over. Sembra che non sia a casa. Quindi? Questo qui è pazzo! Ma che versi fa? Sono la sorella, sì. Benvenuta. Grazie. Sì. È in viaggio con degli amici. Sì. Posso stare qui ad aspettarla? Ma certo. Come? Però le stanze non hanno il bagno. Eh, certo. Ti lascerò stare qui gratis se lavori. Certo. Perfetto. Non è difficile gestire un bagno pubblico. No, no. È una cazzata. Non posso entrare qui? 205... Ah, mi ha dato un'altra stanza. È quella... È quella diretta? Da cui arrivano i tarzanelli? Bella bambola! Qui non ci sono tarzanelli, invece. Quindi ciao. 203. Sì, quindi qui in mezzo ci vive la capellona. Ho capito. Magari devo parlare anche con la sorella... Con... Con sto cazzo, perché non c'è nessuno. Perfetto. Eccoci qua. Inizia. Sarà il mio cliente. Menti che c'è con noi perché abbiamo strappato i capelli. Può essere, può essere, infatti. Lava gli asciugamani. Prendi legna per la calda. Eh, sì. Un asciugamano. A lei signora e un pagamento. Grazie, ben gentile. Che succede? Salve. Hehehe. Ma è nostra sorella? È nostra sorella. Sei tu? E corre... A farsi un bagno. Con gli amici. Ma non era vero. Asciugamani sporchi. Vabbè, è nuda. Cos'è questo? Il bagno è freddo? Dice Sanami. Questo non è il bagno freddo, vero? Ha visto mia sorella? Cosa? Sono l'unica, dice. Non me ne frega nulla. Dice... Che maleducazione, signora. Poi farmi un bel bagno caldo. Eh, lo faccio. Io dobbiamo... Pagato per questo, te ne dico... Signora, non so dirle. La caldaia non sta funzionando. Sistemala. Aspetterò nella sauna. Ah, la caldaia devo risolvermi, diceva. Sì. Che però... Mi serve il tubo. Però per il tubo mi serviva una chiave. Che noi non abbiamo. Giusto? Non ce l'abbiamo. Cos'è? Legna da ardere. Bene. Non è abbastanza. Serve altra legna. Ah no, forse si risolve così. Allora, altra legna. Altra legna la troveremo qui intorno, no? Magari qua in mezzo al boschetto della mia fantasia. Magari la vende la tabaccaia. Ah no, ecco qua. Uno, due, tre. Questo che c'è scritto? Puoi prendere tutta la legna che ti serve. Ah, come ho fatto a non vederla prima? L'escalamento funziona. Dovrei dare a dirla alla signora. Che sicuro se n'è andata indignata. E c'ha anche ragione, eh. Uno paga per un servizio. E infatti, vedi. Ah, non è la sauna, ha detto. Ma è mia sorella. Che se si gira mi fa paura. No. Se la scappa, se la sgaggia. Dov'è fuggita? Boh. Ah, la chiave dell'appartamento. Ed è lì che prendo la patata. Forse. Patata. Scusi, e lui chi è? Qui guarda sotto il tatami. Guardo. Non è uno che dorme, quello? E chi c'era sotto il tatami? Ma non è un signore questo? Che capelli lunghi. Ma non è un signore. Stralcio di giornale? Perché mi odiano così tanto? Tutti parlano alle mie spalle e mi ignorano quando rivolgo loro. Cosa mai gli avrò fatto? Tutta la mia vita è deragliata finché non l'ho incontrato. Al tempio. Si interessa a me, mi ama, ha detto che dobbiamo tenere segreto nella nostra relazione. Il monaco! Ma perché? Voglio solo che sia... E mi stia vicino. Ne sarò felice e potrò stare con lui. Capelli ovunque. Lei non si fa delle domande? Cosa serve il giornale? Forse per l'uccello? Che aveva una roba in bocca che sembrava... No. Cazzo gli ho dato la patata! Chiave dell'armadietto delle scarpe. Cosa? Eh ma vai te a beccare adesso il numero. Ah. Fatto. Chiave del cassonetto e della spazzatura. Che culo la cosa della patata. Era caso eh. C'è stato inutile quindi. Ah no, mettere i panni. Aspetta. Giusto. Giusto la lavatrice. Ok. E i panni sono puliti. Ah no, ho fatto? Ho fatto. Ok, quindi era giusta la lavatrice. La lavatrice della patata. Ok. Ho tirato. Vabbè. Ciao. Sono io la sua... La mostra adesso? Cinque. No, stanno preparando le panatine! Cinque minuti sono cinque del dry. Delle panatine ti namorerà. Devo fare il bagno? Che devo fare? Ma a caso? No. Qui c'è un ordine che devo seguire sicuro. E non so. Dove la trovo? Adesso l'informazione. Forse devo specchiare qualcosa che c'è di qua? Allora, sì. Baccinella di fronte al coso. Sì, però ho qualche difficoltà. Quello lì è lo shampoo? Non so se è lo shampoo. Di qui ci va quello bianco. Ok. La paperella dov'è? La paperella va nell'acqua. Ma non ce la farò mai in tre minuti adesso. Costa sta roba, eh. Se andava qua. Se andava qua. La cina andava qua. Andavano così? Io sicuro ho sbagliato qualcosa. In 30 secondi. Che idea del palle. Eh, vedi che qua già ho sbagliato. Eh, la paliura. Eh, signorina, ho sbagliato. Mi spiace un casino, eh. Veramente lo devo rifare. No, la paperella è andava nella vasca più piccola. Ah, no. Corri all'appartamento. Ok. Mi faccio largo nei capelli. Va bene. Il mio o il suo? Il mio? Aha. Occupato. Non aprire, eh. Non aprire. Eh, è entrata allo stesso, però. Che maleducata, però. Nessuno l'ha invitata. Jumpscherone finale in faccia. L'avevo detto. Ah, sta camminando al contrario. Sta incontrando. Sta camminando. Ah. Aha. Ah, ci ha buttato dentro il bruciatore. Insieme al prete. Il prete è esploso. Il prete è esploso. Perché perde esploso? Esploso il prete. E dal prete rinasce lei. E il proprietario saranno amanti loro. Perché lui le procura le... È esploso anche lui. Che gravi problemi di deambulazione. Che gravi problemi di deambulazione. Cioè, cos'è successo? Cioè, cos'è successo? Non ho messo le cose nel modo giusto. Ok. Poi dopo ci ha scapellati. Siamo corsi in camera. Lei comunque è entrata. Siamo stati trascinati e bruciati. E poi dopo è esploso il prete. C'è un altro finale. Si fa il puzzle finale giusto. Però mi è piaciuto questo a me. Che non l'ho capito. Però esplodevano tutti. Mi è piaciuto. È un grande classico arrivare alla fine e non aver capito nulla. È vero? Ah! Ce l'ha fatto sapere allora. Ok. Bello. Bello. Devo andare in bagno. Entra! La pissi pissi. Come la pissi pissi? Non la voglio bere la pissi pissi.